Sì, adesso inizia il video numero due della giornata, il secondo relatore Davide Corio con le rotte e i percorsi di magazzino. A Davide. Ciao a tutti, buongiorno due Italia e un caloroso benvenuto anche da parte mia a questi O2 Days 2020 quest'anno in forma remota. Oggi vi parlo di rotte di magazzino o percorsi di magazzino così come sono stati rinominati a partire dalla versione 14 di O2, uscita recentemente. Le rotte di magazzino o percorsi di magazzino sono un concetto che è stato introdotto parecchi anni fa ormai, partire dalla versione 8 di O2, durante il refactoring del modulo stock magazzino di O2, un refactoring al quale ha partecipato la community O2 che ha steso le specifiche che sono state poi implementate da O2SA. Le rotte di magazzino sono un concetto abbastanza comune tra gli RP di fascia media alta ma anche dei piccoli gestionali che appunto spesso li chiamano percorsi giustamente in italiano. Sono uno strumento che ci consente con la scrittura di regole di determinare quali sono i movimenti all'interno del nostro magazzino e non solo, vedremo anche che vanno ad impattare i movimenti esterni al nostro magazzino, percorsi che devono prendere i prodotti al succedere di determinati eventi. Le rotte di magazzino sono un qualcosa che l'utente O2 incontra durante la configurazione del sistema anche se passivamente di solito ci si limita a utilizzare le rotte di magazzino già presenti sul sistema senza però approfittare della grande versatilità di questi strumenti. Vediamo quindi cosa possiamo fare con i percorsi di magazzino, innanzitutto come si abilitano, come si configurano e poi cercheremo di provare a creare qualche percorso un pochettino più sofisticato per andare a intuire quale è la loro potenza. Allora, innanzitutto iniziamo con l'abilitazione dei percorsi di magazzino. Questo avviene dal menu magazzino, dal sottomenu configurazione, dal quale troviamo la possibilità di abilitare quelli che dalla versione 14 in poi sono stati nominati percorsi multipasso. Abilitando i percorsi vediamo che si abilita anche la gestione delle ubicazioni di magazzino fondamentali per poter configurare dei percorsi che vedono più steppani tra il nostro magazzino. Dopo aver abilitato i percorsi di magazzino andiamo a vedere dove troviamo evidenza delle rotte. Sicuramente il posto principale è la schermata dei prodotti in Odoo, quindi creiamo un nuovo prodotto che chiamiamo ad esempio vite e ci spostiamo sotto il tab magazzino. Qui vediamo che all'interno del gruppo operazioni ci troviamo alcuni percorsi, quindi alcune rotte già create da Odoo all'installazione del modulo produzione e acquisti. Quindi sono due rotte che ci troviamo già preconfigurate in Odoo senza dover fare nulla che ci permettono appunto di andare a determinare qual è il percorso di approvvigionamento che il nostro articolo vite deve intraprendere nel momento in cui siamo a corto di viti nel nostro magazzino. Lasciamo per questo esempio attiva semplicemente la rotta acquisto. Una cosa simpatica che ci troviamo in Odoo a partire dalla versione 12 in poi è la possibilità di visualizzare graficamente cosa succede all'interno della nostra rotta. Funzionalità che vi trovate sia sulla versione community che sulla versione enterprise. Quindi clicco su view diagramme. Ed ecco che video ci compare, schematizzate graficamente, la rotta che va a impattare sul flusso di magazzino della nostra vite. Qui schematizzata abbiamo la rotta più semplice, quella configurata di default in Odoo che prevede l'acquisto, quindi l'arrivo da parte dei fornitori tramite il tipo di operazione ricevute che porta la nostra vite all'interno dell'ubicazione stock e nel momento in cui dobbiamo vendere questa vite ai nostri clienti viene utilizzato un altro tipo di operazione, ovvero l'ordine di consegna, per spostare da stock a clienti la nostra vite. Dove però queste rotte vengono configurate? Dobbiamo spostarci nel menu configurazione e cliccare sul sottomenu percorsi. Qui abbiamo alcune rotte quelle che sicuramente vi trovate già configurate sulla vostra installazione Odoo, tra cui appunto la rotta produzione e la rotta acquisto. Come vedete alcune di queste rotte ce le troviamo sotto la schermata di configurazione degli articoli dei prodotti, non tutte, perché le rotte possono essere visibili e applicate a diverse categorie di oggetti. Apriamo ad esempio la prima di queste rotte, ovvero la rotta produzione e vediamo che questa rotta produzione è disponibile sui prodotti, motivo per cui sulla schermata del prodotto possiamo selezionare appunto produzione. Volessimo applicare la rotta produzione a tutti gli articoli che produciamo, molto più probabilmente probabilmente sarebbe conveniente dare la possibilità all'utente di selezionare la rotta produzione direttamente sulla categoria del prodotto, quindi possiamo creare una categoria prodotti finiti sulla quale applicare la rotta produzione. All'interno di questo menu percorsi ci troviamo di default anche altre rotte, tra cui la rotta che ci permette di ricevere i prodotti è quella che ci permette di consegnare i prodotti al nostro cliente. Di default in Odoo, vedete, le rotte abilitate sono quelle che prevedono un passaggio solo, ricezione in una fase, consegne in una fase. Se vogliamo modificare questo comportamento e quindi abilitare delle rotte più complicate, che prevedono ad esempio più passaggi in magazzino per la ricezione, quindi avere ad esempio una baglia di carico e una baglia di scarico, possiamo abilitare rotte più evolute dal form di configurazione del magazzino stesso. Qui, come vedete, abbiamo la possibilità di configurare sia per l'ingresso del materiale che per l'uscita del materiale delle rotte un pochettino più sofisticate, rotte che prevedono uno, due o tre passaggi sia in ingresso che in uscita. E non solo, anche per la produzione abbiamo la possibilità di abilitare delle rotte un pochettino più sofisticate che prevedono delle aree di preproduzione, delle aree di post produzione. Ai fini di questo talk ovviamente le rotte ce le creiamo, ce le configuriamo noi, quindi lasciamo tutto com'è, abbandoniamo quindi questo form e ritorniamo all'elenco delle nostre rotte, dei nostri percorsi. Allora, partiamo da un caso più semplice. Ipotizziamo di voler mettere in quarantena, visto anche il periodo, i prodotti in arrivo presso il nostro magazzino. Acquistiamo ad esempio degli articoli del nostro fornitore prima di spostarli nell'ubicazione stock e vogliamo spostarli in un'area di quarantena. Lo stesso concetto potrebbe essere applicato ad esempio a un'area in cui dobbiamo effettuare dei controlli di qualità prima di poter spostare in magazzino i nostri articoli. Facciamo un salto indietro, clicchiamo sulla dashboard iniziale del magazzino. Sulla dashboard iniziale del magazzino, come vediamo, abbiamo alcuni tipi di operazione, tra cui il tipo ricevute. Nella configurazione del tipo ricevute ci troviamo le sue ubicazioni di default, in questo caso l'ubicazione di destinazione predefinita è l'ubicazione stock. Creiamo ai fini di questo esempio un'ubicazione alternativa, quindi andiamo sotto luoghi, così come sono stati nominati nella versione 14 e creiamo l'ubicazione quarantena. Sotto il magazzino principale, quindi VH, e andiamo a modificare il tipo di operazione ricevute specificando quarantena come ubicazione di destinazione. Torniamo quindi sotto il menu percorsi e andiamo a vedere cosa succede nel momento in cui acquistiamo i nostri articoli. Allora, come vediamo, le rotte sono composte da regole. La regola che ci troviamo di default nella rotta acquisto prevede l'utilizzo innanzitutto di un'azione, che in questo caso è acquisto, un tipo di operazione che è ricevuta e un'ubicazione di destinazione, ovvero stock. Noi vogliamo che con l'utilizzo del tipo di operazione ricevute l'ubicazione di destinazione sia quarantena. Salviamo questa rotta e quindi noi sappiamo già che nel momento in cui acquistiamo i nostri articoli, la nostra vita in questo caso, l'ubicazione di destinazione del movimento di magazzino collegato al nostro ordine di acquisto sarà l'ubicazione quarantena. Ovviamente vogliamo far sì che quando i prodotti entrano nel nostro magazzino Odu crei, pre-crei il movimento di magazzino per spostare i nostri articoli dall'ubicazione quarantena all'ubicazione stock. Per raggiungere questo obiettivo andiamo a personalizzare il percorso di magazzino legato alla ricezione dei materiali. Quindi prendiamo questo ricezione in una fase e andiamo ad aggiungere una regola. Le regole sono le righe dei nostri percorsi, delle nostre rotte. Le troviamo sotto il menu regole nel quale possiamo vedere tutto l'elenco delle regole configurate sul nostro sistema. Eventualmente sono raggruppabili per rotta, per percorso, ma di solito la creazione e la modifica di queste regole avviene contestualmente alla modifica del percorso di magazzino. Ritorniamo sulla nostra rotta ricezione in una fase e andiamo ad aggiungere la regola che ci permette di spostare i prodotti dall'ubicazione quarantena all'ubicazione stock nel momento in cui questi raggiungono l'ubicazione quarantena. Modifichiamo il nostro percorso, aggiungiamo una riga e vediamo quali sono i campi che andiamo a configurare nel momento in cui vogliamo creare delle nuove regole. Innanzitutto gli diamo un nome, in questo caso abbiamo una regola che chiameremo da quarantena stock. Nel campo azione andiamo a selezionare appunto il tipo di comportamento che Edu deve intraprendere nel momento in cui questa regola viene attivata. Nel nostro caso possiamo utilizzare prendi da, ma per il nostro scopo andremo a utilizzare prendi e consegna. Che differenza c'è tra prendi da, consegna A e prendi e consegna? Prendi da è una regola che ci permette di spostare dall'ubicazione A all'ubicazione B nel momento in cui un articolo entra nell'ubicazione A. Consegna A ci crea un ordine di approvvigionamento nel momento in cui nell'ubicazione B nasce l'esigenza di una determinata quantità. Prendi e consegna funziona in entrambi i modi, quindi se il nostro articolo entra nell'ubicazione A verrà creato un movimento di magazzino per spostarlo all'ubicazione B. Se nell'ubicazione B nasce l'esigenza di una determinata quantità, allora verrà creato un movimento di magazzino per spostare quella quantità dall'ubicazione A all'ubicazione B. Poi come vedete abbiamo anche le azioni di tipo produzione e acquisto che sono quelle azioni che ci permettono di creare un ordine di approvvigionamento che va a creare a suo volto un ordine di produzione o un ordine di acquisto. Ai fini di questa demo possiamo utilizzare benissimo Prendi e consegna. Il tipo di operazione ovviamente ci andrà a determinare qual è il tipo di movimento di magazzino che andrà ad essere creato nel momento in cui nasce l'esigenza di questo fabbisogno. Nel nostro caso possiamo utilizzare trasferimenti interni e sappiamo che il trasferimento dovrà però partire dall'ubicazione quarantena per andare verso stock. Altri due campi molto importanti sono movimento automatico che può essere appunto manuale oppure automatico. Nel nostro caso va benissimo manuale perché vogliamo avere controllo sul movimento della quarantena allo stock. I movimenti però possono essere anche automatici con un ritardo quindi possiamo impostare un movimento come automatico dopo 8 giorni di tempo. L'ultimo campo che possiamo configurare riguarda il tipo di approvvigionamento. Qui possiamo utilizzare Prendere dalla gecenza o Attivare un'altra regola. Prendere dalla gecenza semplicemente crea un movimento di magazzino mentre Attivare un'altra regola fa scattare la creazione di un approvvigionamento. Quindi Attivare un'altra regola andrà a verificare se esistono altre regole in Odoo configurate per far sì che il fabbisogno nella nostra ubicazione venga soddisfatto. Una opzione che è stata introdotta da Odoo 13 in poi è quest'ultima opzione che troviamo qui in metodo di approvvigionamento Take from stock if unavailable and trigger another rule che semplicemente ci dice se c'è abbastanza disponibilità nell'ubicazione A allora crea un movimento di magazzino. Se non c'è disponibilità allora crea un ordine di approvvigionamento. Questo fa sì che le modalità MTS e MTO tipiche delle versioni di Odoo precedenti siano soddisfatte entrambe. Se utilizzate una versione precedente A alla 13 di Odoo ci sono dei moduli OCA per soddisfare questo bisogno. Nel nostro caso possiamo lasciare comunque prendere dalla gecenza. Salviamo. Per verificare il comportamento possiamo innanzitutto andare a creare un ordine di acquisto Selezioniamo un fornitore, nel nostro caso il fornitore della vite Aggiungiamo il nostro articolo vite E confermiamo il nostro ordine Vediamo che è stato creato un movimento di magazzino in ricezione E vediamo che il tipo di operazione è ricevute E l'ubicazione di destinazione è quarantena Quello che ci aspettiamo Confermiamo la ricezione del materiale E andiamo a vedere in magazzino che cosa sta succedendo Vediamo che è stato creato automaticamente di Odoo un movimento interno Che servirà per spostare i nostri articoli da quarantena a stock Ed ecco che la nostra rotta di magazzino un pochettino più sofisticata È stata eseguita completamente Vediamo ora come rendere il discorso ancora più complicato Vediamo come utilizzare le rotte di magazzino Per creare dei flussi di produzione un pochettino più sofisticati Un'esigenza abbastanza comune riguarda la gestione dei semi lavorati Quando abilitiamo il modulo produzione in Odoo e creiamo una distinta base Se la distinta base ha più livelli Il semi lavorato, quindi uno dei livelli intermedi della distinta base Prevederà il prelievo dei componenti dall'ubicazione stock E il carico del semi lavorato sempre nell'ubicazione stock In molti casi vogliamo che i semi lavorati Quindi i livelli intermedi della nostra distinta base Non abbandonino l'area in cui stiamo svolgendo la produzione Ad esempio potrebbe essere un'ubicazione bordo macchina O comunque il nostro laboratorio Per fare questo andiamo quindi a creare una nuova ubicazione di magazzino Che chiameremo ad esempio laboratorio E a questo punto andiamo a utilizzare questa ubicazione laboratorio all'interno delle nostre rotte Siccome però ci piace complicarci la vita Andiamo a creare un secondo tipo di operazione Per poter mappare i movimenti dei semi lavorati Quello originale lo rinominiamo in produzione prodotti finiti Che preleverà da laboratorio L'ubicazione che abbiamo appena creato Duplichiamo questo tipo di operazione Lo chiamiamo in produzione semi lavorati Cambiamo il tipo di codice I semi lavorati preleveranno i componenti da laboratorio E depositeranno e caricheranno il semi lavorato sempre in laboratorio A questo punto andiamo effettivamente a configurare i nostri percorsi Anche in questo caso prendiamo la rotta esistente produzione La rinominiamo in produzione prodotti finiti Salviamo, salviamo, duplichiamo La chiamiamo produzione semi lavorati E dobbiamo ovviamente andare a personalizzare la regola esistente Quella esistente in realtà la rimuoviamo Ne creiamo un'altra che chiamiamo ad esempio Consumo componenti Tipo di azione, produzione Giustamente Il tipo di operazione sarà quella nuova che abbiamo appena creato Produzione semi lavorati Ubicazione di origine, ubicazione di destinazione Quelle di default Che vengono prelevate dal tipo di operazione Salviamo e chiudiamo Concludiamo andando a configurare Il percorso di produzione dei prodotti finiti Per andare a prelevare i semi lavorati Dall'ubicazione laboratorio Salviamo e a questo punto siamo pronti per poter testare il nostro ciclo di produzione in due fasi Creiamo velocemente un articolo da poter utilizzare allo scopo Lo chiamiamo prodotto finito Tipo immagazzinabile Percorsi produzione prodotti finiti Salvo Creo un semi lavorato Tipo di percorso produzione semi lavorati a questo punto Nel semi lavorato aggiungiamo una distinta base che conterrà un componente In questo caso la nostra vite Creiamo anche una distinta base per il prodotto finito che conterrà il nostro semi lavorato Ed ecco che siamo pronti per testare un ordine di produzione Allora diciamola tutta In realtà non siamo ancora prontissimi Perché manca ancora una regola Però voglio farvi vedere cosa succede quando le rotte sono configurate male Procediamo comunque alla creazione dell'ordine di produzione per il nostro prodotto finito Così innanzitutto vediamo già i primi effetti delle nostre nuove regole Sotto il tab vari possiamo vedere quale tipo di operazione è stato selezionato E quali sono le ubicazioni di partenza e di destinazione dei prodotti finiti Quindi vediamo che il tipo di operazione selezionato è stato effettivamente quello corretto Quello atteso che è produzione prodotti finiti L'ubicazione dei componenti che sarà il nostro semi lavorato e appunto al laboratorio E l'ubicazione del prodotto finito sarà appunto stock Quindi fino a questo momento tutto sembra funzionare correttamente Ma proviamo a confermare questo ordine di produzione Ecco cosa succede Manca una regola per far sì che vite finisca nel laboratorio Vite in questo momento lo acquistiamo Parte dai fornitori Arriva in quarantena Dalla quarantena arriva stock Ma non c'è nessuna regola che dica come portare da stock a laboratorio la nostra vite Quindi dobbiamo aggiungere ancora una regola sulla rotta corretta Prima di procedere alla configurazione di quest'ultima regola Dobbiamo però ancora creare un tipo di operazione Che chiameremo Approvvigionamento laboratorio Di tipo trasferimento interno Ubicazione di origine stock Ubicazione di destinazione laboratorio Che servirà appunto per spostare i componenti da stock a laboratorio Quando sono necessari per l'operazione di produzione A questo punto andiamo sulla nostra rotta di acquisto E aggiungiamo la nuova regola Che chiameremo da stock a laboratorio Azione prendida Tipo di operazione Approvvigionamento laboratorio Ubicazione di origine stock Ubicazione di destinazione laboratorio Perfetto Prendere dalla giocenza come metodo di approvvigionamento Va benissimo Salviamo A questo punto riproviamo Andiamo quindi a confermare il nostro ordine di produzione Ed ecco che l'errore riguardante la regola mancante Non capita più E vediamo che è stato creato anche l'ordine di produzione Per il semilavorato Guardiamo però i movimenti di magazzino associati Allora innanzitutto Abbiamo come tipo di operazione Associato all'ordine di produzione del prodotto finito Quello corretto Laboratorio stock Per il semilavorato abbiamo Tipo di operazione, produzione, semilavorati Laboratorio e laboratorio Che è quello che attendiamo Andiamo però a vedere cosa sta succedendo nel magazzino Abbiamo giustamente un movimento di magazzino Da elaborare per l'approvvigionamento del laboratorio Per la nostra vita che manca in laboratorio Approviamo questo movimento A questo punto Il nostro ordine di produzione per il semilavorato Sarà pronto La sua conferma Ci lascerà completare anche la produzione del prodotto finito Bene Abbiamo fatto un po' di giri Tra rotte Regole Tipi di operazione E così via Immagino abbiate Potuto comprendere Qual è la potenzialità Dietro questi strumenti Che sono Spesso Sottovalutati Ci si limita a utilizzare Quello che Odu ci offre Di default Appena installati i moduli Con le regole I percorsi I tipi di operazione Si può fare tantissimo In questo talk Non abbiamo approfondito Altri aspetti Riguardanti le regole Così come non abbiamo assolutamente toccato Il discorso delle regole di immagazzinamento Che ci permettono di Automatizzare ancora di più I flussi di magazzino Le regole di immagazzinamento Magari saranno oggetto di un altro mio Talk più avanti Ci permettono ad esempio Di andare a posizionare I nostri articoli Nelle ubicazioni specifiche All'interno del nostro magazzino Come ad esempio Scaffali Oppure ripiani Uno stesso scaffale E così via Comunque già così Immagino Abbiate capito Cosa si può riuscire a fare Con i percorsi di magazzino Durante gli due days Avrete a che fare Con altri talk Che riguardano ad esempio Il mondo del contolavoro Questo è un altro Settore in cui Con le rotte di Odu Con le regole Con le regole di immagazzinamento Si riesce a ottenere Grandi risultati Senza per forza Installare moduli aggiuntivi O scrivere codice Ancora peggio Io per adesso Vi ringrazio E vi do appuntamento Al mio secondo talk Domani Dove parlerò di OduSH Per adesso Grazie a tutti Per l'attenzione Bene Ciao Davide Come stai? Ciao Andrea Mi senti? Bene 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 Ottimo Allora io Devo presentarti Ma credo che tu Non abbia Questo Però Davide Corio È diciamo Uno dei Principali Responsabili Dell'esistenza Dell'Associazione dell'Italia Nonché il primo Presidente Nonché diciamo La persona Che mi ha Aiutato Quando ero Un semplice Programmatore Di periferia Per cui diciamo Davide Ha avviato Questo percorso Che ci vede Qui oggi Con un'associazione Ben organizzata Ben strutturata Insomma Quindi Io ti ringrazio Sempre ogni volta Che ne ho La possibilità Allora Il tuo talk È stato Sicuramente Interessante E completo Come solo tu Sai fare Infatti Vedo molti complimenti In chat Allora Ti faccio Per andare Così Recuperiamo un po' Sui tempi Vi chiedo Non se è possibile Configurare Tutto il mondo Che ci hai fatto vedere Al fine di gestire Una rotta Contoversi Allora La possibilità È presente Su Odoo Nel modulo standard Già da un po' Di tempo Anche se si limitava A darci la possibilità Di utilizzare Un centro di lavoro Separato Di un eventuale terzista Durante i nostri processi produttivi Dalla versione 13 In poi Odoo Hanno integrato Un modulo Per i subcontracting Quindi per le lavorazioni Presso terzi È quasi Quasi completo Per i nostri scopi Purtroppo in Italia In altri paesi Abbiamo una lunga tradizione Di lavorazioni Conto terzi Presso terzi E non sempre Tutto È gestibile Tramite delle rotte Di magazzino Faccio un esempio Semplicissimo Classico caso In cui noi mandiamo Ad esempio A un nostro fornitore Un prodotto grezzo E ci ritorna Un semilavorato Oppure Inviamo un codice Finito Semplicemente Da lavorare Ad esempio Una verniciatura E il magazzino Deve ritornarci Lo stesso codice identico Questi Sono aspetti Che non si riescono A gestire con le rotte E nemmeno Con i moduli Di contolavoro Attuali Di Odoo Sono necessari Un po' Di personalizzazioni Però diciamo Che già Con una versione Odoo Moderna Si riesce a fare tantissimo E non è necessario Toccare le rotte Nel momento in cui Sì È necessario Esplorare Dei percorsi Un pochettino Più alternativi Con le rotte Qualcosa riusciamo a fare Ma ripeto Non tuttissimo Ok Bene Ti faccio un'altra domanda Posso gestire rotte diverse Per cliente O fornitore? No Le rotte Non sono specifiche Per partner Sono specifiche Per prodotto Per categoria Di prodotto O per magazzino Non è possibile Specificarle Sul cliente Sul fornitore Ok Perfetto Va bene Ok A questo punto Io ti ringrazio Così Recuperiamo un po' Di minuti Preziosi Sulla nostra tabella Di marcia Tanto Davide Avremo modo Di sentirti Anche in un altro Talk Grazie Davide Leggo in chat Tanti commenti Positivi Rispetto a questa Giornata Segnateci anche Eventuali Difficultati Dove qualcuno Ha problemi Con l'audio Adesso cerchiamo Di capire Con la regia Se si può Fare qualcosa Per cui Adesso Saluto Davide E Introduciamo Il prossimo Video Con Davide Speranza Direttamente Da Odum S Speranza Grazie.